Ufficio scolastico provinciale dell'Abbatto operativo entro il mese di febbraio con docenti e personale degli istituti della sesta provincia pugliese che potranno finalmente rivolgersi allo sportello di competenza senza arrivare a Bari e Foggia. Dopo l'annuncio del presidente della provincia Bernardo Lodispoto e la collaborazione con il sindaco di Barletta Cosimo Cannito, Federazione Lavoratori della Conoscenza e CGL puntano l'attenzione sul personale giuridico e amministrativo che sarà impiegato nella nuova struttura. Il nuovo ufficio dovrebbe essere composto da circa 15 unità già in servizio tra istruttori e funzionari amministrativi, spiega in un comunicato il segretario regionale Ezio Falco, ma le mansioni dovranno essere implementate da ulteriore personale per garantire la regolare ed efficiente fruizione del servizio da parte dei docenti e non soltanto. Fondamentale il piano d'azione in vista dell'anno scolastico 2024-2025, la BAT in questo momento conta 62 scuole di cui 4 assegnate in regenza. Dopo le operazioni di riorganizzazione della rete scolastica regionale, si prevede che scenderanno a 56, una diminuzione che non comporterà la chiusura dei plessi, ma la rideterminazione del numero degli uffici con annessa mobilità logistica di classe e personale. Ad ospitare l'ufficio scolastico provinciale sarà Palazzo San Domenico a Barletta. I lavori per l'impianto di climatizzazione sono prossimi al completamento con il resto delle strumentazioni già disponibili per avviare le attività.